Andrà a processo a partire dal prossimo settembre quella che gli investigatori della squadra mobile considerano la rinata cosca mafiosa di Caltanissetta. Dieci persone coinvolte nell'inchiesta antimafia La Bella Vita sono infatti state rinviate a giudizio dalla GUP Graziella Luparello, su richiesta del PM della DDA Pasquale Pacifico. Sette di loro sono accusati a vario titolo di avere fatto parte della nuova famiglia mafiosa nissena, di avere gestito l'estorsione o il traffico di stupefacenti, in particolare cocaina. A processo andranno anche tre imprenditori chiamati a rispondere di favoreggiamento, in quanto, secondo l'accusa, avevano negato di avere subito richieste di pizzo o di avere cercato di avvantaggiarsi dai contatti con alcuni esponenti mafiosi. A processo andranno Carmelo Bontempo, 44 anni, considerato colui che aveva preso in mano le redini della nuova cosca, Fabio Meli, 44 anni, Giovanni Puzzanghera, 45 anni, Francesco Zappia, 48 anni, Ernesto Mirandi, 39 anni, Giuseppe Polizzi, 43 anni, Giovanni Vinci Guerra, 36 anni, insieme agli imprenditori Michele Amico, di 42 anni, Massimiliano Iorio, 43 anni, e Michele Todaro, 42 anni. A patteggiare la condanna a sei mesi, in quanto accusato solo di singoli episodi di spaccio di cocaina, è stato il nisseno Mario Ragusa, 29 anni.